Buonasera a tutti voi, ben ritrovati per l'appuntamento con l'informazione della Lombardia di 1TV News. Ieri sera il Consiglio Comunale di Cardano Alcampo ha approvato la mozione che impegna il Sindaco Lorenzo Spesi a intraprendere ogni azione a tutela dell'ente anche in sede giurisdizionale per stabilire se l'intitolazione dell'aeroporto della Malpensa a Silvio Berlusconi sia legittima o meno. Questo di fatto è il primo passo ufficiale verso il ricorso al TAR già annunciato lo scorso luglio da alcuni amministratori dei comuni di Sedime del Lab della Brughiera. Lunedì sera anche Soma Lombardo disporrà in Consiglio un'iniziativa simile. Sempre ieri intanto il Comune di Milano ha approvato la delibera sul ricorso presentato contro l'intitolazione all'ex Premier e su questo tema, a margine del convegno dedicato al Milano Climate City Contract, il Sindaco Giuseppe Sala ha commentato Ci siamo associati al ricorso come altri comuni e lo confermo, ma per le tempistiche non so ancora niente. Controlli anche di sera per la Polizia Locale Bollatese grazie ai progetti straordinari Bollate Sicura e Smart, servizio di monitoraggio aree a rischio del territorio, che vede gli agenti impegnati in interventi mirati la sera e nei fine settimana, sempre nell'ottica di maggior sicurezza voluta dall'amministrazione comunale. Questi i numeri delle prime sere di intervento, 55 le persone controllate in totale e due coloro che sono stati colti alla guida in stato di ebbrezza, entrambi neopatentati. Ad uno di loro è stata ritirata la patente anche per mancata copertura assicurativa del veicolo. Un conducente è stato multato per guida contro mano e due sono state le sanzioni per divieto di sosta nella zona del parco centrale. Controllati anche aree verdi e piazze dove sono state identificate alcune persone, mentre i negozi per la vendita di alcolici sono risultati tutti in regola con le normative vigenti. Richiesta di intervento alla sezione radiomobile dei Carabinieri di Legnano, intorno alle 20.30 di mercoledì del personale di sicurezza del negozio Tecnomat di Cerro Maggiore, che aveva appena fermato due persone, una giovane e un uomo, che stavano nascondendo negli abiti alcuni utensili da lavoro, cacciaviti in particolare, per uno valore complessivo di poco meno di 400 euro. I due sono stati arrestati e portati al comando legnanese e identificati come una 21enne di Caivano, in provincia di Napoli, e un trentenne di massa di somma, sempre nel napoletano, entrambi già precipicati. Trattenuti nelle camere di sicurezza della caserma di via Guerciotti, i due sono stati giudicati per direttissima ieri al Tribunale di Busto Orsizio per furto aggravato. Il giudice ha disposto nei loro confronti la convalida degli arresti e l'obbligo di firma nel comune di residenza. In caso di emergenza, pericolo per la comunità o a situazioni di criticità, i volontari della protezione civile di Castano I sono sempre in prima linea, come ha chieduto anche nei giorni scorsi, quando sono stati nelle zone dell'Emilia-Romagna duramente colpite dell'alluvione, per apportare il loro fondamentale aiuto e sostegno alla popolazione. Ecco il servizio di Alessio Velleri. C'è un'emergenza? Eccoli pronti ad intervenire. Come in questo caso, siamo con la protezione civile di Castano, che è appena rientrata dall'Emilia-Romagna, colpita duramente dall'alluvione. Cristiano, tu sei il coordinatore della protezione civile. Dove siete stati? In che zone siete stati? Allora, eravamo a Traversara, Bagno Cavallo, provincia di Ravenna, dove c'è stato il danno maggiore della zona, perché il fiume Lamone e i suoi argini non l'hanno tenuto e hanno allagato tutta questa frazione. Voi siete rimasti giù diversi giorni, com'è la situazione là in questo momento e cosa avete trovato? Allora, quando siamo arrivati era un disastro, tutto allagato e già l'acqua aveva defluito un attimino, perché c'è stato un bel metro e due metri d'acqua in paese. Comunque è rimasto ancora un bel po' d'acqua e tantissimo fango. Noi siamo intervenuti insieme a tante altre realtà molto più grosse di noi, come Varese, Como e via dicendo. Noi siamo intervenuti con il modulo antincendio, che serve praticamente per lavare le strade, con le nostre motoseghe per tirare via gli alberi abbattuti e via dicendo. Siamo stati lì cinque giorni, abbiamo migliorato la parte del paese dove potevamo operare, ma ce n'è un'altra proprio sotto l'argine che è ancora zona rossa e quelle case lì l'80% andranno abbattute, quindi era anche inutile intervenire a pulire, a mettere a posto. La cosa che mi ha colpito di più è proprio la solidarietà che c'è in questa terra, la Romagna, soprattutto dalle nuove generazioni che le vedevo col badile, gli stivali, girare casa per casa a chiedere se avevano bisogno e comunque di adoperarsi. Ci hanno aiutato moltissimo e anche tiravano sul morale a vedere questa gioventù tutt'assieme, cercare di risollevarsi. Voi avete avuto modo di parlare anche con le persone là del posto, c'è stato qualcosa che vi hanno detto in modo particolare, perché comunque è una regione duramente colpita oggi, ma già negli anni è stata colpita altre volte. È questo che mi ha colpito anche della Romagna, che comunque in questa fase di disgrazia non c'erano lamentele, le persone che si hanno fatto sulle maniche, badile, lavoravano, sì c'erano quelli che avevano da dire sull'amministrazione, su di qua, di là, ma ben poco, confronto a tante altre nostre realtà. E a proposito di catastrofi climatiche, il Presidente della Regione Attilio Fontana ha inviato una richiesta di dichiarazione di Stato di emergenza di rilievo nazionale per gli eventi meteorologici avversi avvenuti nel periodo compreso fra l'8 e il 12 settembre scorsi sul territorio Lombardo. I danni più significativi si sono verificati nei territori delle province di Bergamo, Molecco e Brescia, ma le piogge diffuse hanno provocato incrementi significativi dei livelli dei corsi d'acqua principali un po' ovunque. In particolare, il fiume Lambro e il torrente Molgora, nelle stazioni di riferimento, hanno superato la terza soglia di allerta, mentre il Seveso, il Brembo, il Serio e i torrenti Lura e Mallero hanno a più riprese fatto registrare il superamento delle soglie di ordinaria e moderata criticità. Sono state segnalate diverse problematiche localmente anche nelle città di Milano e nella sua provincia e nella provincia di Monza e Brianza. I reporter dati dagli enti locali hanno portato ad una prima stima per la quale i danni ammonterebbero in totale a oltre 88 milioni di euro, di cui più di 42 per il comparto pubblico e 46 per quello privato. Gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e i pronti interventi finalizzati al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategica effettuati da comuni, province e regione sono stati quantificati invece in quasi 3 milioni di euro. Si è tenuto ieri sera al ristorante Le Querce di Casorate Sempione, in provincia di Varese, il meeting del Lions Club Gallarate Seprio, che ha avuto come ospite d'eccezione il giornalista Gianni Spartà, tra le altre cose fondatore delle associazioni varese per l'oncologia e il circolo della bontà, che ha parlato delle vite di due personaggi di spicco della storia varesina, lombarda e nazionale, ovvero Giuseppe Zamberletti, considerato il padre fondatore della moderna protezione civile, e Salvatore Furia, poeta e meteorologo, fondatore della società astronomica Schiaparelli di Varese Campo dei Fiori. In questa intervista a cura di Andrea Pisani, Spartà ci presenta i libri che ha scritto per raccontare la storia di questi due straordinari personaggi. Vediamo. Pensieri positivi, la vita di Salvatore Furia, di cui ricorre proprio quest'anno, nel 2024, il centenario della nascita, e la luna sulle ali, la biografia del papà della protezione civile, Giuseppe Zamberletti. Ho avuto occasione di parlarne a Lions del Seprio, a Casorate, è stata una bella serata, in cui è stato bello mettere a punto le vite parallele di due personaggi nati e cresciuti nella provincia di Varese, anche se Salvatore Furia era di Catania, che hanno cambiato qualcosa attorno a sé in questo territorio, che hanno fatto del volontariato, l'uno come responsabile del Centro Geofisico per l'Alpina e dell'Osservatorio Astronomico del Campo dei Fiori, e l'altro come padre della protezione civile, hanno fatto del volontariato un servizio pubblico permanente. Se voi ci pensate, Zamberletti sulla propria pelle, quando lo mandano dal commissario governativo nel 1976 in Friuli, nel 1981 in Irpigna, inizia proprio in corpo e vili, diciamo, sulla frontiera dell'emergenza, a elaborare questo concetto della protezione civile. Il suo pensiero, il suo modello, la sua frase ripetuta in maniera ossessiva, era non bisogna fare prima quando c'è un disastro, un cataclisma, un'emergenza climatica e geologica, bisogna fare prima, non presto, bisogna fare prima, la prevenzione, la prevenzione, la prevenzione. Non è arrivato, ovviamente, con la protezione civile a poter prevedere i terremoti, però ci ha insegnato quantomeno il coordinamento. Quando lui arrivò in Friuli, corabinieri, polizia, ciascuno rispondeva a un padrone, adesso c'è un'organizzazione in Italia che ha fatto da scuola anche in Europa, per cui tutti sanno che cosa fare se suona un campanello d'allarme, se suona una sigrina durante la notte, c'è da correre, che so, sul fronte di un'alluvione, come in questi giorni in Emilia, oppure sul fronte di un terremoto. Ecco, io ho intitolato questa serata Zorro e il professore. Zorro era il nome, il codice di Zamberletti come radioamatore, la sua carriera, prima che politica, è la carriera di un radioamatore. E pensieri positivi è la frase con cui Salvatore Furia terminava i suoi bollettini meteorologici al Gazettino Padano e sul telegiornale regionale della Lombardia, ascoltato da almeno due milioni di lombardi ogni mattina. Lui diceva, nonostante tutto, nonostante io vi abbia parlato di piogge, di neve e nonostante la natura sia stata in questo secolo, nel secolo del Novecento, come dire, anche torturata dall'umanità che non ha capito che poi la natura in certi momenti si ribella e fa pagare il conto. Lui diceva, auguro a tutti i pensieri positivi nonostante tutto. Grande successo per l'edizione 2024 del Premio Internazionale Lombardia a ricerca, che assegna un milione di euro a una scoperta in ambito life science. Sono infatti 35 le nomination valide pervenute da ricercatori di tutto il mondo. La parola passa ora alla giuria che si è riunita per la prima volta in questi giorni. Saranno anche quest'anno 15 super esperti individuati tramite il sistema Scopus, una database dei più grandi e consolidati esistenti al mondo nel settore bibliografico, tra i membri con il più alto H-Index nelle aree tematiche coerenti con il tema di quest'anno, scienze della vita, a cui si aggiunge il professor Karjun in quanto vincitore dell'edizione 2023 del Premio. I giurati dovranno selezionare la scoperta più meritevole, valutando anche la potenzialità di sviluppo verso nuovi prodotti o politiche a beneficio delle persone. Il Premio verrà consegnato il prossimo 8 novembre, come di consueto al Teatro alla Scala di Milano, nel corso della giornata della ricerca di Regione Lombardia dedicata alla memoria di Umberto Veronesi. Nel corso della stessa mattinata in programma anche la consegna del Premio Lombardia in ricerca riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per il quale sono aggiunte 19 candidature. Sentiamo ora il sindaco di Fagnano Olona, Marco Baroffio, per alcune comunicazioni che riguardano la popolazione. Questa settimana molto probabilmente ci sarà la chiusura in alcune ore di vie patrioti per la sistemazione di un chiusino della rete fognaria e la sistemazione di una sala cinesca sempre del sistema idrico della via. Attenzione alla pagina Facebook dell'amministrazione comunale o all'albopretorio dove verrà comunque scritto la chiusura della via proprio per disporre e dalla possibilità di svolgere questi lavori. Gli eventi del fine settimana, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle ore 18 prosegue in Salacamino la mostra dedicata al mare di Raimondo Colantonio. Sempre sabato alle ore 17 e 30 al castello, Giuseppe Agnesina ci presenta il suo nuovo romanzo dal titolo Il Pascia Risot, storie e racconti della Gallarati di un tempo. Questo per la resegna Un caffè con l'autore. Mentre alle 21, sempre al castello, l'ultimo appuntamento del Festival di Fagnano in musica con il recital chitarristico di Nicola Snebuloni. Sarà un'occasione per festeggiare i 50 anni del Comitato Genitori Promotore del Festival a cui va tutto il nostro augurio e ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni. L'evento istituzionale è quello di lunedì alle ore 21, il Consiglio Comunale. Si può assistere in Sala Consigliare che è aperta al pubblico o sul sito internet del Comune di Fagnano la diretta streaming. Non mi resta altro di aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti. Associazioni, obbisti, artigiani, attrazioni e molto altro ancora. Nelle vie e nelle piazze centrali di Magnago è tornata la fiera autunnale. Sentiamo. Stand delle associazioni, prodotti agricoli, obbisti, musica, attrazioni e giochi per piccoli e grandi. La tradizione che si rinnova. Ecco infatti nelle vie e nelle piazze centrali di Magnago la fiera autunnale. Abbiamo deciso quest'anno, in accordo con la parrocchia, di anticipare di una settimana per aprire la settimana di eventi e lasciamo così spazio a tutte le iniziative e lasciamo la conclusione alla parrocchia di chiudere in bellezza la festa del paese. Una giornata, insomma, di momenti, come si dice, pensati proprio per tutti e che è saputo richiamare gente dal paese, certo, ma anche cittadini dai comuni vicini. L'obiettivo è quello di dare più servizi o comunque più cose possibili per coprire un po' tutte le fasce di età. Quindi abbiamo obbisti, commercianti, abbiamo street food, abbiamo lo spazio per i bambini. Quest'anno abbiamo deciso di inserire nella fiera i giochi di una volta, i giochi dei nonni, per cui è l'occasione anche per i più piccoli di conoscere, vedere e provare i giochi di una volta. Quindi una serie di iniziative che speriamo copra tutti i gusti e tutte le fasce di età. Ancora arte a Borgomaniero con un'interessante mostra di cui ci parla Giovanni Padalino. Presso il palazzo Tornielli di Borgomaniero, in provincia di Novara, dove a sede il municipio cittadino è in programma la mostra di Eufemia Renzi dal titolo Le mie creazioni. Si tratta di un'arte particolare in cui l'artista riesce a dare risalto attraverso i colori a forme reali. Infatti il cielo, gli alberi, le strade diventano un insieme che all'improvviso si trasforma in realtà. Per questa edizione, ma anche per questa settimana, è davvero tutto. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con noi, dandovi l'appuntamento a lunedì prossimo, ma non prima di darvi qualche indicazione su ciò che accadrà nel weekend di One TV sul canale 79. Infatti inizia la nostra nuova stagione televisiva a partire da questa domenica alle 20.30 con la prima puntata del nuovo ciclo di Super Trooper, il programma condotto da Marco Ciapparelli per la regia di Franco Landoni. Nella puntata di domenica vi posso dare qualche anticipazione, ci sarà un'esclusiva intervista a Rita Pavone, ma anche tanti altri interessanti appuntamenti come l'agenda di spettacoli per il prossimo weekend e altre sorprese che vi consiglio di non perdere. Non mi resta che salutarvi, augurandovi buon fine settimana, sempre su One TV. Grazie a tutti.